Ciao, sono Erika Evangelio, sono un'insegnante di attività motorie e faccio parte dell'associazione Xen, mare e neve. Che cosa facciamo noi? Facciamo una cosa terribile, riusciamo a mettere nelle condizioni di scendere per ogni tipo di pista i nostri bambini, ragazzi, adulti. Lo sci è uno sport che non ha età, è un sport di tecnica e quindi può essere consigliato per tutti, anche i non atleti, anche quelli un po' più prudenti, diciamo. Ieri sera, un fiore all'occhiello del villaggio Palumbo, abbiamo fatto una notturna, i nostri ragazzi hanno fatto lezione anche in notturna e quindi è una grande soddisfazione. Questa mattina invece noi abbiamo appena finito dove c'è stata un'affluenza notevole, soprattutto territoriale. Questo ci fa tanto piacere perché vuol dire che anche il territorio calabrese si rende conto che oltre al mare si può fare sport in montagna. Un'altra cosa che noi facciamo e ci vantiamo tantissimo, ne siamo orgogliosi, è il progetto Vivi la Montagna, dove attraverso i ragazzi delle scuole noi riusciamo a dimostrare come in due giorni e mezzo ogni tipo di ragazzo, anche il meno, diciamo, portato, se vogliamo dire così, può essere in condizioni di scendere e scivolare in sicurezza per qualsiasi pista. Quindi vi aspettiamo al villaggio Palumbo, Associazione Marinevexen. Ciao! Grazie a tutti!